La mia madre che chiamava nella televisione quando... si sentì... si sentì... si sentì... che le walle di Berlino sono distruttate dalla gente. Perché l'idea senza il mercato e la struttura commerciale... i risultati non sono buoni. Ma per un paese questo è anche la rappresentazione delle possibilità. Era un lavoratore, quindi inventò il telefono per parlare nel teatro. Un genio! Non era potuto usare la licenza di copia. Come si dice il brevetto? Licenza. Licenza in 80... Adesso, come spesso accade in questi momenti, tocca al politico... ora è il momento di mangiare la licenza. E per un politico italiano è assolutamente cruciale dire che ora è il momento di mangiare la licenza. Grazie. 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 Grazie.